Mi sono laureata da poco in scienze chimiche, è stato un percorso molto complicato, infatti sono soddisfatta dei miei sforzi e di cosa ho raggiunto e uno dei ricordi che mi porterò sempre nel cuore sono le visite nell'ufficio del professore Naviglio, perché lui, diciamo che dato che ho un problema di anemia, mi dava spesso queste pilolette di ferro che faceva lui stesso, quindi ogni tanto andavo a salutarlo. Quindi mi porto questo bel ricordo nel cuore e spero di poter incontrare nuovamente il mio professore Naviglio, che sicuramente è stato uno dei più in gamba nel mio percorso di studi.